va bene quindi parliamo parliamo in questo questa serata parliamo di nuovo parliamo di code generation per esu con dotnet e ci ho messo la parolina e gain e gain perché appunto era più o meno fine dell'anno scorso che ne avevamo ne avevamo parlato diciamo che mi è venuta voglia per o anche per motivazioni lavorative cose del genere di parlarne e vediamo cosa ne salta fuori va bene sapete esattamente chi sono sapete che c'è stato qualche cambiamento in cui durante quel durante quest'estate ma insomma passiamo passiamo avanti e quindi parliamo cominciamo a parlare di passiamo cominciamo a parlare di code genere di code generation per certi versi mi verrebbe da dire che è un ennesimo a me piace a me piace parlare di servizi che poi magicamente c'è sempre qualcosa che qualche bug che mi impedisce di fare una sessione una sessione drittissima per cui ho già visto che ci sono certe cose che continuano a non funzionare ma vabbè speriamo che un giorno vadano vadano lisce ma va bene così allora perché parliamo parliamo di code parliamo di code generation parliamo di code generation ovviamente per una moderna azienda che lavora che lavora nel cloud poi ovviamente come sempre questi temi sono assolutamente applicabili a tutti gli ambiti ma diciamo che in questo diciamo che il focus può essere inteso con una moderna azienda che lavora col cloud e con e giuri in particolare sicuramente siamo in un siamo in un momento in cui in cui la tecnologia i framework i servizi cambiano cambiano molto cambiano molto velocemente per cui per cui per cui sebbene sebbene si dica beh no bisogna andarci cauti con gli aggiornamenti con gli aggiornamenti tecnologici che arriva la nuova libreria diciamo che c'è qualche ci sono librerie ci sono framework ci sono motivazioni che spesso ci obbligano a inseguire a inseguire l'ultima l'ultima tecno l'ultima tecnologia perché magari ci sono degli efficientamenti ci sono ci sono dei miglioramenti che sono assolutamente in dispensa sono assolutamente indispensabile un po essere nel giro di essere provvisore permanente sempre in corsa sempre in cambia in cambiamento e spesso e spesso questi framework questi servizi impongono magari dei cambiamenti dei cambiamenti che vengono che vengono ripetuti che vengono ripetuti più e più volte comunque c'è sempre un tema a un tema molto molto importante a cui tengo molto che è quello di è quello di garantire le best practice per garantire almeno una practice che ci sia una practice all'interno dell'azienda nel senso practice intesa come regola come regole quando nel caso specifico nostro come sviluppatori quando sviluppiamo del codice sarebbe bello che allora diciamo sviluppiamo codice che facciamo sì che i colleghi quelli colleghi scriviamo codice tutti più o meno allineati magari magari ci potrebbe essere un aiuto affinché il codice venga scritto in una maniera più o meno o più o meno omogenea uno degli obiettivi è uno degli obiettivi principali di uno strumento di questo genere è quello di aumentare la manutenibilità del codice a me chi mi conosce sa che uno dei miei paletti è quello di è quello della manutenibilità perché un codice manutenibile non si può rendere performante un codice performante difficilmente può non si può rendere manutenibile per cui prima di tutto manutenibilità perché noi come programmatori costiamo a cosa è di valore e cosa non è di valore cosa non è di valore quindi un attimino ho pensato a quali sono le cose a quali siano le cose le cose di valore e qua vedete scritto service versus web service e il parallelismo è voluto l'ho voluto così nel senso servizio versus web service service versus web service value versus not value perché dico che il web service non è di valore intendetemi il web service ha il suo valore però il valore che noi intendiamo nel senso logica di business ce l'ha il servizio servizio inteso inteso come componente di business logic che fa il suo lavoro indipendentemente dall'ambito in cui lo utilizziamo nel senso se io faccio una scrittura su database per molestando che non è business logic ma è un data liar ma facciamo il calcolo di un totale di una fattura ok e questa la chiudiamo in un componente di business logic bene questo per me è di valore se questo componente io lo spongo attraverso un web service beh per certi versi allora è di valore perché lo rendo accessibile e questo mi sta bene ma non è di valore perché appunto per me il valore è la logica è la logica di business perché un web service che esponga il mio componente come http piuttosto che lo esponga come grpc facciamo un esempio piuttosto che un componente me lo esponga con azure function verso una api app quindi un app service in azure è di valore e di valore se lo guardo dal punto di vista non funzionale più pratico un servizio piuttosto che pratico un altro ma per il mio business da un certo punto di vista che sia un azure function che sia un api app che sia una function v1 v2 v3 v4 v5 da un certo punto di vista non c'è un vero non c'è un vero valore un vero valore aggiunto dove dove non sta il perché soprattutto poi non c'è questo valore aggiunto perché quando faccio la business logic probabilmente ho devo fare che ne so uno due tre quattro cinque componenti e l'implemento a uno a uno li faccio bene poi quando devo esporre questi servizi questi servizi questi questi servizi attraverso che ne so un azure function piuttosto che un api app in http in grpc in realtà devo fare un lavoro macchinoso di esposizione di far di ricevere la chiamata attraverso il protocollo attraverso la http adattare la chiamata chiamare il componente istanziare il componente chiamare il componente ottenere il risultato di spedire indietro lo faccio una due tre quattro cinque supponete che devo farlo venti trenta volte perché ho venti trenta componenti ecco che adattare il protocollo per far arrivare la richiesta dalla https verso il mio componente è poco di valore soprattutto se magari per qualche motivo piuttosto che opportunità devo cambiare protocollo e dire basso da https grpc perché magari sto facendo un servizio di back end che non deve essere esposto ma deve essere il meglio più performante possibile piuttosto che è una azure function che è di cui devo fare un upgrade piuttosto che dico che quando voglio gestire la dependence injection voglio cambiare la libreria piuttosto che per invocare un componente che amo una libreria di supporto che ne so la polli di turno per chiamare servizi http ne faccio una nuova versione c'è un nuovo modo per chiamare quella funzione perché devo scrivere a mano n volte per chiamare n servizi diversi quando magari posso automatizzare la cosa ecco di tutto questo giro di parole per dire che appunto ci sono spesso delle azioni ripetitive che ci può ci porta via ci importano via tempo e che quindi magari c'è qualche modo per per ottimizzare per migliorare queste queste prestazioni è importante ricordare ovviamente che soprattutto nei confronti dei servizi web dei confronti di una function nei confronti di un api app la logica di business non va mai scritta in un controller di un api app o nel corpo di una function di azure appunto sono degli adattatori di protocollo l'implementazione va fatta in una business logic il componente la logica va messo in un componente separato in una classe separata per quale motivo perché indipendentemente dal protocollo io posso testare in maniera più efficace il codice perché magari riesco a fare unit test e magari riesco anche ad automatizzare la generazione almeno in parte degli unit test ricordiamoci sempre che per certi versi nei confronti di un servizio esposto tramite business logic tramite chiedo scusa tramite un web service quel controller di un api app per esempio se mi fa la logica di business in realtà mi fa due funzionalità e non una sola perché appunto mi fa l'adattamento di protocollo e la logica non funziona sono due componenti separati bene quindi tutto il discorso tutto il tema tutto il tema di di auto ma tutto il tema chiedo scusa legato all'automazione all'automazione di esposizione di un componente attraverso web service in senso generale costruire tutta l'infrastruttura attorno a un servizio per semplificare per velocizzarmi ci entriamo sostanzialmente nell'ambito generico sostanzialmente del meta del meta programming ovvero del codice che genera del codice che genera codice non è una novità ce l'abbiamo da sempre nel mondo di dotnet ce l'abbiamo dal giorno 1 perché dal giorno 1 che abbiamo che abbiamo la reflection la reflection che è uno strumento assolutamente potente però sinceramente sinceramente è difficile come codice da manutenere ed è difficile da customizzare ed è difficile da customizzare nel senso che è complesso scrivere codice codice via a tra codice che sia che sfrutti e che sfrutti la reflection è piuttosto impegnativo non è competenza di tutti quanti dall'altra parte ci sono gli amatissimi perché a me piacciono tantissimo i domain specific language i dsl quindi linguaggi ad altissimo livello ad altissimo livello che permettono che permettono tramite una sintassi che viene pensata per il dominio specifico su cui voglio generare il codice è potentissimo perché effettivamente nel punto di vista dell'espressività la reflection è potente dal punto di vista di quello che posso generare perché ovviamente lavoro a bassissimo livello il dsl invece è potente in termini di espressività però un dsl è difficile da manutenere anche qui difficile da manutenere la reflection perché le competenze per scrivere codice per la reflection è difficile il dsl scrivere codice dsl è semplice ma manutenere il dsl di per sé perché anche quello diventa un applicativo che devo manutenere sviluppare beh ecco che la difficoltà non è da poco ed appunto diventa un rischio diventa un rischio la customizzazione per quale motivo perché sostanzialmente noi non sappiamo cioè non è un'abitudine scrivere un dsl è veramente è veramente abitudine di pochi e quindi il rischio di intraprendere in questa di intraprendere questo ambito ci porta al rischio che magari chi sviluppa il codice poi se ne va succede qualsiasi cosa e difficilmente difficilmente qualcun altro riesce a manutenere tutto quello che a questo punto parliamo di allora tutti questi in effetti sono sono dei code sono in qualche modo dei code sono dei code generator adesso qua non ho messo la parola giusta però il più intesa in termini di template code generation ovvero il fatto di generare del codice a partire da un a partire da un template questo è molto più potente è molto potente e è più semplice è più semplice da mantenere non è detto che sia semplice semplicissimo da semplicissimo da customizzare in effetti dovrei magari potrei dire che in effetti forse semplice da manutenere potrebbe incasinarsi anche questo un pochettino però diciamo che nella pratica tutti quegli strumenti che sono legati a quello che la code generation ovvero template code generation diciamo che sono un attimino più semplici da manutenere quindi code generation puro brutale quali sono quali sono gli ambiti gli ambiti di code generation che conosciamo allora gli strumenti di code generation basati sul test quindi sui template testuali in cui si va a fare con dei placeholder sostituire a sostituire valori generati dal contesto ce ne sono tantissimi nell'ambito nell'ambito dotnet nell'ambito dotnet cosa c'abbiamo abbiamo lo storico t4 che oramai è in che oramai è in disuso sicuramente dal mondo dal mondo almeno t4 non so chi la o se qualcuno l'ha usato a me ha dato tante soddisfazioni soprattutto più di dieci anni fa quando lavoravo con vpf per generare i view model con la in i notify property changed c'è yeoman che del mondo open source è molto utilizzato per la generazione del codice poi ce ne sono tanti altri io onestamente sono sempre cercato di rimanere nel mondo dotnet e non usare il mondo node razor le pagine razor di aspnet piuttosto che di blazor sono pagi è un code è un code generator basato su test su test su test su test è un codice è un ambiente di un generatore di codice potentissimo perché alla fine è un modo per scrivere codice dotnet con una sintassi a modi pagina modite a modi template testuale decisamente decisamente potente esiste anche il modo per tirarlo fuori sostanzialmente da visual studio del contesto di del contesto di generazione generare pagine sostanzialmente per aspnet per aspnet però diciamo che il mio obiettivo era un attimino diverso perché a me è sempre piaciuta a me è sempre piaciuta la sintassi basata su roslin ovvero da quella sintassi che deriva sostanzialmente dal codice da quando il compilatore c sharp della versione 6.0 quindi siamo sostanzialmente poco prima del 2010 è stato completamente riscritto è stato completamente riscritto in c sharp stesso ed è diventato sostanzialmente 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 un'architettura per rendere sostanzialmente il compilatore effettivamente una scatola bianca una scatola aperta una black box che non sappiamo esattamente che cosa che cosa succede cioè tutta la sintassi ovvero il compilato o meglio il passato ovvero l'abstract syntax tree diventa un parametro che è un valore un dato che è che è accessibile quindi è possibile interagire durante lo stage di sostanzialmente compilazione da parte del c sharp e questo assolutamente un inter un elemento assolutamente assolutamente interessante che ha tantissime applicazioni per esempio il fatto di poter poter implementare degli analyzer attraverso all'interno di visual studio e poter quindi generare vedete che esiste il concetto di context report diagnostica e quindi è possibile analizzare il codice sorgente che stiamo scrivendo in visual studio per esempio sono per esempio che ne so all'interno di un controller che deriva di pi controller e vedo se per esempio questo è una condizione di errore e vado a dire report diagnostica e quindi farvi vedere l'ondeggiatura sotto la sotto la parola sotto il token sotto il token contestualmente contestualmente al alla riscrittura in rosling è stato creato è stato creato è stato creato il l'ambiente di scripting quello che poi ha generato tutto quello che si sharp interactive dotnet interactive ovvero far comportare si sharp come uno scripting sostanzialmente a modi python se vogliamo dire così anche se python è l'ultimo dei degli ambienti di scripting node per esempio è un altro ambiente è un altro ambiente da questo punto di vista e vedete che tutto comincia con si sharp script create e poi un run e quindi fa una valutazione di un testo all'interno del proprio applicativo quindi non nel codice sorgente ma durante il runtime dell'applicazione per valutare sostanzialmente una espressione un codice non solo un'espressione si sharp e questo anche lo vedremo lo vedremo vedete che uno degli effetti lo vedremo è il fatto che il codice sorgente può essere interpretato in tempo reale e quindi vedere l'abstract syntax tree e quindi come è fatto il proprio sorgente ed essere una cosa che ci interesserà ci interesserà il syntax tree ovviamente ha tutto un suo modello ad oggetti che andremo a vedere e un'altra cosa che andremo a vedere è il fatto che questo albero non solo è il risultato il risultato del parsing del compilatore si sharp ma è anche qualcosa che noi possiamo scrivere ed effettivamente è quello sto il centro un attimino di questa di questa presenta di questa presentazione metto subito le mani avanti perché sicuramente qualcuno c'è già giocato qualcuno l'ha già visto ha visto il codice e a qualcuno viene subito in mente ma perché cavolo devo mettermi nelle mani di roslin quando magari con razor con un qualunque code generator faccio le cose faccio le cose forse più in maniera più efficace perché roslin sicuramente come minus è estremamente estremamente verboso uno dei uno dei plus uno dei plus anzi permettetemi questo punto di vista lo faccio al volo c'è questo se lo vogliamo dire è un minus però un plus onestamente quello di mentre scriviamo codice in realtà sfrutto la sintassi stessa del c sharp e quindi il fa e la sua caratteristica di essere un linguaggio staticali type stronti type quindi quello che sto scrivendo viene sintaticamente verificato già direttamente a livello di scrittura del codice e questo non è poco perché il codice vedrò il risultato solamente alla fine e tutti gli strafalcioni che posso fare mentre quota parte degli strafalcioni possono essere evitati perché sfrutto la sintassi del modello del monendo di roslin questo come plus questo come plus sostanzialmente dice anche che effettivamente andare a scrivere questo codice qua questo codice qua quindi syntax factory come vediamo significa essere perfettamente essere molto precisi con su quello che dobbiamo andare a andare andremo andare a vedere per quale motivo perché vedete che quando andiamo a vedere ad expression cioè andare a definire expression variable declaration with initializer normalize white space with additional annotation sono un po tutte quelle piccole parole che normalmente si usano nella definizione nella descrizione della struttura di un linguaggio di un linguaggio e che qui vengono sostanzialmente formate nel codice per cui andare a dire statement and expression sono due cose ovviamente assolutamente diverse dire una unary expression piuttosto che una binary expression sono due cose completamente diverse argomento argument and parameter sono due cose diverse e così è e via dicendo per cui effettivamente si è assolutamente molto 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 descrittivi e un'ultima cosa un'ultima cosa anche se non l'ho implementata stupidamente devo essere sincero magari vediamo se lo riesco a fare al volo il fatto che il code generator in generale non solamente rosli sono una delle motivazioni per cui esistono 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 due concetti fondamentali due parole chiave import due concetti fondamentali che poi diventa una parola sola in c sharp che è il concetto di partial per quale motivo esiste il concetto di partial partial classes e partial methods il partial class significa che la descrizione di una classe c sharp non è atomica ovvero in un file posso scrivere una classe non posso suddividere la divisione di una classe posso suddividere una classe anche il su più file ripetendo il contratto il nostro stato un public partial class con lo stesso con lo stesso nome ricordatevi che file diversi con la parte della partial devono avere ovviamente lo stesso nome lo stesso modificatore ma diverse a meno di nessuna implementazioni di interfaccia nel senso che non è possibile replicare su due implementazioni parziali la stessa classe solo su me solamente su una partial methods che è una cosa che si usa pochissimo che si usa pochissimo scusate le partial classes vengono usate dove nei classicamente nei designer nei designer per cui c'è la parte di designer e la parte generata che l'utente invece che il programmatore sviluppa per la parte custom partial methods sono dei punti di intercettazione del codice sono dei metodi fittizi in cui se esiste l'implementazione allora l'implementazione viene viene compilata e messa nell'asset del dell'applicativo se la se il parziale sostanzialmente non viene implementato ecco che quello diventa quello diventa il partial metodo diventa un placeholder che rimane vuoto non c'è nessuna chiamata a metodo e come se non c'è come se non ci fosse quindi diventa un punto di intercettazione per fare delle customizzazioni ovviamente i partial methods hanno dei vincoli sintattici per esempio accettano solamente parametri di input altrimenti sarebbe impossibile sarebbe impossibile tirarli via come se niente come se niente fosse bene andiamo a vedere andiamo a vedere un po di andiamo a vedere quindi un po di codice come detto come detto qualcosa non funzionerà nel senso che ci sono certe cose che di visual studio continuano a non funzionare nonostante le versioni questo video studio 2022 preview la punto se la punto 7 la punto 7 in realtà funziona non funziona perché ci sono certe cose che non riescono a essere che non riescono a essere visibili quindi diciamo che allora a parte la semplificazione che poi andremo che poi ho fatto semplicemente che poi ho fatto semplicemente per comodi per comodità diciamo che all'interno di una all'interno di una di una chiedo scusa il modello di riferimento che intendo è abbiamo un contratto quindi una interfaccia e abbiamo una service library ovvero un implementazione di quell'interfaccia che poi ovviamente cosa significa che qualsiasi cosa io vado a generare utilizzerà l'interfaccia per avere tramite dependency injection l'iniezione del componente poi per questioni di comodità per questioni di comodità nel codice che vedremo dopo sostanzialmente sostanzialmente ho usato direttamente la classe ma questo solamente per questioni di praticità per questioni di dipendenza delle librerie perché sennò non non riuscivo a preparare per tempo il preparare per tempo il codice una cosa interessante che quindi andiamo a vedere questo se voi andate sul menu view other windows e syntax visualizer vedete che vi si apre il syntax visualizer voi entrate all'interno del codice nel codice mettete il pulsore dove volete e vedete che il syntax tree si adatta di conseguenza a partire dal token che dall'elemento sintattico che effettivamente è un syntax node sostanzialmente nella sintassi di roslin che sostanzialmente vi permette di vi permette di dice vi dice come vi dice qual è il token che sta sotto e quindi vedete che interface keyword se vado su public vedete che c'è la public keyword se vado su i service vedete che è un identifier token vedete che su do something vedete che un identifier token se io vado qua vedete metodo declaration vi becca esattamente tutto quanto che è fatto da effettivamente da un tipo predefinito che è lo string e così via attenzione che questo compilato supporta questo modello ad oggetti supporta ogni singolo carattere presente all'interno all'interno del vedete lead end of trio vedete che praticamente li traccia esattamente ogni singolo carattere perché lui può riprodurre esattamente lo stesso codice carattere per carattere quindi se effettivamente la sintassi supporta assolutamente assolutamente tutto assolutamente tutto quanto bene vediamo questo allora vediamo eh sostanzialmente sostanzialmente due cose la prima cosa vedete che ho scritto questo roslin questo roslin visitor chiedo scusa è un processo è una console application è una console application vedete che ho fatto program allora vedete che cosa sfrutto sfrutto la libreria code analysis c sharp e vedete che c'è questo questo classe c sharp syntax tree faccio parse text io leggo esattamente questa interfaccia ok quindi il fuoco dice sorgente e mi viene restituito sostanzialmente un syntax tree a questo punto come syntax tree a parte fare se poi fate 3 punto 2 string voi avete esattamente lo stesso codice sorgente e lo vedremo fra un attimo essendo un albero ricordate quindi la struttura dati che si studia a scuola quindi un nodo con dei nodi con dei rami figli struttura ricorsiva per cui io posso fare il classico algoritmo di visita che è una visita una visita in order quindi prima il nodo radice e prima quella prima visito il nodo corre il il nodo corrente e poi vado sui suoi vado sui suoi figli l'algoritmo banalmente è l'algoritmo di visita qui cosa ho fatto dato che tutti andiamo a vedere vedete get root vi da tree syntax tree get root vi da la radice quindi il nodo inizia quindi il nodo assolutamente iniziale sono tutti syntax node poi però ogni singolo nodo ha la sua specializzazione ora io posso stampare per ognuno e dire dammi il tipo di nodo il tipo di nodo fammelo vedere punto e poi for each visit quindi dato il nodo radice syntax node faccio un text writer di passo console.out livello 0 nod kind per qualsiasi nodo che non ho intercettato prima write line nodo e poi con l'anidamento level level più uno che poi qua chiedo scusa ma ho sbagliato perché qua bisogna andare ovviamente a mettere ovviamente a mettere level più uno perché sennò ah no scusate l'ho messo dove l'ho fatto visit sub visit ah sì sì l'ho fatto già qua dentro ok perfetto ok se c'è il nodo più specifico per esempio nei space declaration ognuno dei quali ha un parametro specifico per esempio il nome l'identificatore o quant'altro lo faccio vedere quindi rosling set startup andiamo a vedere facciamo un bel break point e quindi parse tac vedete che è molto veloce è immediato è immediato dovete pensare che questa cosa qua succede continuamente sotto visual studio perché stiamo perché visual studio è sempre più oneroso perché in realtà visual studio continua a macinare la compilazione del codice in costanza e costantemente costantemente vedete per quale motivo pensate al fatto che tutta l'attività di c sharp a partire da c sharp 8 ovvero il fatto di avere i nulla avere i nulla ball reference type funzionano per code flow ovvero il fatto del perché io il fatto che il compilatore riesce a seguire istruzione per istruzione statement per statement quali sono le variabili quali sono le istruzioni coinvolte in un percorso qualutando anche gli if le condizioni e permette di capire se per esempio una variabile ad un certo punto potrà essere una condizione nullabile quindi il fatto che adesso ci adesso ci sono sempre dei warning che vi dicono guardate che qui potrebbe arrivare il null è perché lui ha fatto un percorso ha trovato dei percorsi che arrivano a quella istruzione in che potrebbero aver generato una condizione di nullabilità per cui per cui tutto questo consumo di cpu perché effettivamente visual studio 2022 è abbastanza oneroso è abbastanza oneroso se pensiamo vabbè guardate è un giga e 3 sono su una sono su una macchina nuova perché l'ho finalmente cambia cambiata dato che proprio a questo evento qui quando ho fatto quando ho fatto questa sessione la macchina era piantata però era un giga però molto velocemente questa 64 bit arriva a due giga questa visual studio 2022 quindi però è funzionale a una scrittura di codice molto più performante bright line andiamo a vedere vedete che il two string vi fa vedere esattamente la stessa interfaccia se a questo punto vado chiedo scusa vado dentro la visita node vedete che vi dice compilation unit non ho fatto niente per cui stampa compilation unit vado dentro subvisite faccio child node e così via il risultato qual è vedete che è esattamente lo stesso risultato lo stesso risultato che ha fatto che ha fatto visual studio abbiamo esattamente la stessa abbiamo sostanzialmente la stessa la stessa cosa qui ovviamente ho scritto poco perché non non sono andato a scrivere tutti i parametri che ci sono ma semplicemente quelli principali la cosa importante è che a questo punto in qualunque momento no perché per esempio se mi metto qua un breakpoint vado a vedere andiamo a vederlo attacca vedete che io sono arrivato esattamente a un identifier e quindi effettivamente vedete che vi dice esattamente in quale punto trovate il token vedete che vi dice quali sono le dipendenze quel codice quindi voi voi navigate sostanzialmente sostanzialmente nel nel codice e questo è assolutamente assolutamente una cosa una cosa interessante benissimo vediamo a questo punto la cosa una cosa intera un'altra una cosa interessante quindi visual studio a questo meccanico allora questo questa cosa qua l'ho fatta manualmente visual studio questa cosa qua lo fa la fa anche automatica lo fa anche automaticamente lo fa continuamente lo vedremo lo vedremo fra un attimo visual studio è il primo consumatore di di tutta questa di tutta questa cosa qui quindi andiamo a vedere un attimino sostanzialmente come come funziona sostanzialmente come funziona vedete che allora il principio di base del codice del il principio di base del codice 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 del un percorso che è assoluto rispetto al file system, è relativo al folder di progetto, non relativo al Visual Studio stesso. Quindi voi potete scrivere un'applicazione che faccia generazione di codici all'esterno, riga di comando, generare un template, assolutamente. La cosa interessante è che tutto questo ambiente è integrato con Visual Studio ed esiste quindi il concetto di iSource Generator. Che rientra in una delle funzionalità, quindi il concetto di Generator, con l'implementazione della iSource Generator all'interno di tutti quelli che sono gli analyzer di Visual Studio. Analyzer di Visual Studio. E vedete che è la voce che trovate qui nelle dependency dell'analyzer. Ora, diciamo subito che cos'è un iSource Generator, quindi un generator per Visual Studio. Un generator è una libreria che è obbligatoriamente NetStandard 2.0. Per quale motivo è NetStandard 2.0? Perché dovete ricordarvi che questa libreria deve essere utilizzata da Visual Studio. Visual Studio stesso usa .NET, ma appunto usa .NET 4.8, non .NET Core. Visual Studio 2022 non usa .NET Core. Più precisamente, questo è un dato che contestualmente a questo non viene nominato, ma potenzialmente Visual Studio 2022 userà anche .NET Core, però la maggior parte del codice è .NET dentro Visual Studio e ancora .NET Framework, non .NET Core o .NET 5.6, per cui è un 4.8. Quindi affinché lo carichi, bisogna che sia compatibile con il 4.8. L'unica libreria massima trasversale è la NetStandard 2.0. Quindi, indipendentemente dalla LangVersion, perché la LangVersion questa è una feature del compilatore, non del framework, a meno di alcune feature, ovviamente, però ecco che sostanzialmente un generator è un NetStandard 2.0 in cui esiste una classe che appunto è decorata con l'attributo generator e implementa iSourceGenerator che utilizza questi due metodi, initialize ed execute. La library di riferimento, la library che utilizza il framework, vedete che ho referenziato due volte il progetto. In realtà non è pulitissimo questo, quella che vale è questo. Per quale motivo? Perché qualche volta mi potrebbe servire un tipo che ho definito nel generator stesso. Lo vedremo dopo. Diciamo che non è strettamente sufficiente. Non è strettamente necessario, chiedo scusa. La cosa importante è che per essere utilizzabile il generator, vedete che dovete includere, e questo lo si può fare solamente a manina, nel progetto che utilizza quindi l'analyzer, deve avere reference output assembly, false, output item, analyzer. Questo perché non voglio sostanzialmente che la DLL mi finisca nel distribuibile, perché nel distribuibile non mi interessa, anche se io l'ho referenziata, e output item type è un analyzer. Questo è l'LL perché finisce sostanzialmente qua dentro. Qual è il principio del generator? Il principio del generator sostanzialmente è il concetto di context. Il context sostanzialmente è quello, è il contesto in cui viene eseguito il source generator. Vedete che ci sono sostanzialmente che cosa? Abbiamo il compilation, il compilato, ovvero tutto quello che si sta compilando nel progetto in cui sono referenziato. Quindi a questo livello compilation, questo execute, dopo aver fatto tutta la... mentre sta facendo la visita di tutto il codice sorgente, lui continua a invocare questa execute con il compilation. Poi ci sono... vedete che c'è add source, che è il metodo che permette di generare del codice, quindi di inserire all'interno del progetto, contestualmente il progetto, vi permette di aggiungere dei file. E poi ci sono additional files che vi permettono di accedere a dei file che vengono marchiati come... vi faccio vedere, vedete che qua sotto ci sono per esempio dei C-Sharp Analyzer additional file, perché per esempio a supporto del code generator potrebbe esserci un file di testo che fa qualche descrizione. Ci sono 50.000 modi per fare questi esempi, però diciamo che ovviamente cerchiamo il tempo sempre a tirarlo, vediamo se eventualmente di farlo dopo. Facciamo la cosa semplice. Context.addSource, due parametri, demo.cs, e qui facciamo var demo code è uguale a source text.from virgola encoding punto utf8 ok? E demo code diventa questo. magari qua ci mettiamo anche un punto generated. Non è strettamente necessario, ma diciamo che diventa una buona abitudine. Vedete che possiamo dire così, facciamo var code così e questo lo bandiamo anche a capo, questo è uno source text, source text, demo code ok? E per esempio facciamo public class demo aperta chiusa ok? Quindi vedete oppure a questo punto mettiamoci un dollaro ovviamente qui ci dobbiamo mettere la doppia graffa perché ovviamente non deve essere intesa come var class name uguale a demo e qua ci mettiamo aperta chiusa per la string interpolation ed ecco che abbiamo fatto il nostro primo generatore di codice ovvero andiamo a generare all'interno di questa allora andiamo a generare all'interno del progetto in cui il library generator è referenziato andiamo a creare andiamo a creare del codice per esempio public class con una variabile ora pensate che questo invece che essere invece che essere il nome della classe possiamo pensare di far così guardate facciamo un esempio al volo new item andiamo a cercare text ok? text file e chiamiamo my demo name ok? e lo chiamiamo config.txt e lo andiamo a marcare come c-sharp additional file ok? e ci mettiamo dentro demo name a questo punto cosa facciamo? facciamo che class name che cos'è? è file per esempio punto quindi using system.out punto read all text da dove? da context punto additional files di zero per semplicità punto path ok? ovviamente potrei cercare per nome ok? ma diciamo dato che c'è un unico cioè supponiamo che ci sia un unico nome prendiamo il file e da questo leggo il contenuto del config leggo my demo name ed ecco che generiamo quindi una classe che ha il nome che troviamo dentro questo file di configurazione pensate che questo file potrebbe essere qualsiasi cosa pensate che possa essere una descrizione swagger di un API di un API rest per esempio potrei generare la classe proxy che mi permette di invocare di provocare un point http possiamo arrivare a questo livello generato il codice lo dichiaro come codice sorgente e lo aggiungo guardate l'effetto faccio rebuild tac questo è il bagone sostanzialmente perché vedete che qua sotto che qua sotto non parte function generator che è un copia e colla che è un copia e colla del di un altro progetto che vedremo adesso però questo non mi viene aggiornato e non tiro a non capire per quale motivo andiamo a riaprirlo purtroppo questo è l'unico modo e non riesco onestamente a trovare devo dedicarmi il tempo ma realmente anche a scrivere ai personaggi per capire qual è il motivo per cui questa cosa qua continua a non funzionare se io vado ecco qua non lo fa vedere come al solito vediamo se vabbè ok effetto demo neanche riaprendolo lo facciamo vedere usiamo prendiamo una a qualsiasi classe facciamo public void test qua e qui ecco che effetto demo my demo class non lo fa vedere e te pareva che per quale motivo non lo fa vedere come sempre riproviamo vediamo speriamo che l'altro codice funzioni l'effetto demo ecco questo diciamo che è sicuramente la cosa che un po' più mi frena sempre su tutto questo per quanto e quindi di andare poi con un generatore con un generatore esterno perché c'è sempre qualche impedimento che non capisco per quale motivo non lo faccia mai beh non lo faccia mai funzionare depend si analyzer libra niente adesso ha deciso proprio di non partire bello qua è tutto a posto qua non lo fai vedere benissimo va bene vediamo vediamolo di qua perché se non funziona di qua sono proprio messo sono proprio messo male andiamo a vederlo di qua generating the function ha proprio vediamo se adesso compila ok per funzionare ha funzionato ha compilato per cui dovrebbe esserci le funzioni provo ad andare un attimino a riaprire function generator allora dependency analyzer function generator function generator ok qua funziona quando riuscirò a capire perfettamente cosa succede sarà solo che ora allora andiamo a vedere un esempio più concreto allora supponiamo che l'obiettivo che dobbiamo raggiungere sostanzialmente è questo definita l'interfaccia definita la la classe definita la classe che implementa il servizio io cosa voglio fare voglio implementare una funzione voglio implementare questa è fatta a mano ovviamente quello che dovrei quello che è ripetibile di fare continuamente è una funzione in cui faccio dependence injection di i service service e quindi per esempio perché nella program faccio aggiungo service service description singleton ok quindi all'interno della mia classe service che ha anche una classe base e vedremo dopo per quale motivo con il service in realtà classica funzione function quindi una funzione che ha un http trigger authorization level che riceve la richiesta http faccio una determinata cosa e quindi preparo la richiesta che mi arriva probabilmente in un post anzi mi arriva come un post quindi come una struttura a corpo per mapparla come un json per mapparla e fare l'invocazione del componente ottenere il risultato e restituire il valore di ritorno ok quindi questo è la function pensate a fare questa cosa qua tante e tante volte per quale motivo perché adesso che siamo con dotnet 6 e dotnet 6 è molto più performante vogliamo ricompilare ci saranno a breve le nuove function un v4 ci sarà qualche cosa perché alla fine gli oggetti di ray questa response cambiano sempre un po' come faccio l'invocazione del processo cambia sempre da dotnet 5 a dotnet 6 è cambiato il sistema di hosting perché il dotnet 5 non essendo lts era in isolated mode per cui tutti questi modi pensate a dover rimettere a po' mani su tutte queste funzioni bene detto questo allora cosa sono andato a fare supponiamo di avere quindi stessa struttura più o meno di una service host app quindi la stessa funzione di prima stessa dependence injection per semplicità ripeto ma solo per praticità vedete che io ho applicato la service simple quindi il fatto di caricare direttamente il command ma è semplicemente una semplificazione della cosa è una semplificazione quindi qua ho riportato ho riportato che cosa il codice di implementazione del servizio del servizio ribadisco solo per comodità perché poi ho inserito sostanzialmente per praticità questa cosa qui vedete che ho questo attributo che è publish http nel senso magari ho 50.000 classi all'interno del progetto 10 classi 5.000 classi nel progetto però voglio solamente alcune che vengono identificate pubblicate come function in cui i singoli metodi siano pubblicati all'interno della function e quindi non voglio confonderli o meglio voglio pubblicare solamente quello che mi serve per cui sono andato a definire sostanzialmente o uso un manifest quindi un file esterno come avete visto sostanzialmente di qua o uso un manifest potrebbe essere per esempio potrebbe essere per esempio il file come dicevo prima quello di swogger quello di swogger mentre qua sfrutto i metadati stessi del progetto bene a questo punto questo progetto che cosa succede dependency dipendo dall'analyser bene andiamo sull'analyser che ho qua che cos'è l'analyser l'analyser vedete che intanto uno qui ho l'attributo attributo che si aggancia alla classe ok che è quello che ho usato perché perché sostanzialmente chiudo un po' qua chiedo scusa che c'è tanta roba aperta cosa voglio fare io voglio che trovare le classi all'interno del progetto che hanno perché vedete anche questa serviceimple service è una classe ok qui se per comodità ho creato la classe base parziale che sarà la base della nostra function io non voglio cioè se io dico classe io posso beccare anche questa nella mia analisi no io non posso pubblicare questa qua voglio pubblicare solamente serviceimple per cui gli metto publish.http benissimo a questo punto vado in function generator ecco che function generator diventa un pochettino più interessante nel metodo initialize vedete che c'è il parametro generator initialization context vedete che c'è qui un metodo di questo initialization context è register for syntax notification per poter passare un oggetto che si chiama syntax receiver bene che cos'è un syntax receiver è un metodo è un chiedo scusa è un oggetto che implementa l'interfaccia ai syntax receiver che restitui che ha un metodo di on visit syntax node guarda caso lo stesso meccanismo di visita in pratica mentre lui quindi praticamente vicio studio cosa fa se sente che nel progetto si è un syntax receiver allora fornisce il contesto di generazione del codice e se va dentro trova il receiver che è stato dichiarato se lo tiene in canna e mentre fa la visita la visita del codice perché sta facendo sostanzialmente continuamente questo che abbiamo visto giusto questa cosa qua ogni volta che trova questo nodo cosa fa lo passa al syntax receiver e io a questo punto come sfrutto il fatto che nel momento in cui trovo che cosa un elemento attribute e lo andiamo a vedere no se io trovo qua vedete che se io sono qua vedete che io identifico sostanzialmente l'attribute mi trovo a questo punto a questo punto cosa mi interessa se io trovo l'attribute guardate sono in un attribute list che è contenuto in una class declaration bene la classe che contiene questo attribute che ha il nome publish http allora è una classe che io devo generare quindi nel syntax receiver vedete se il syntax node è un attributo bene a questo punto se il nome dell'attributo è publish http allora class to prime me le salvo syntax node punto parent punto parent e questo sicuramente diventa una classe perché perché sono sicuro perché questo attributo per come l'ho definito publish http lo posso legare solamente alla classe benissimo a questo punto la function a questo punto a questo punto il syntax receiver riceve l'elenco ha fatto la visita e ottene anche le classi a questo punto vedete che quando faccio l'esecuzione quindi ha finito di passare bene a questo punto execute mi riprendo dal contesto di esecuzione il receiver castato opportunamente perché non è non è generico e a questo punto mi prendo il parametro pubblico class il cab publish che me lo sono fatto io e a questo punto vedete cosa ho fatto for each class for each method e mi vado a generare il file mi scelgo il nome service cs questo genererò un qualche codice sorgente come source e faccio add source come l'avevo fatto prima come vado a generare questo codice vedete che mi sono creato questo generate method module generate method module benissimo allora guardate adesso io cosa faccio io prendo questo codice qua che la passe come l'ho identica come l'ho fatta io a mano andiamo a vedere adesso a meno di svarioni che posso aver fatto vedete che comincio using contract Azure Azure extension contract Azure Azure extension system trading class declaration request a partire dal metodo definisco l'oggetto l'oggetto di tipo request che avrà una classe di tipo request che avrà un elenco di parametri avrà un elenco di vedete di parametri in base ai parametri per ogni parametro aggiungerò che cosa un membro a questa classe che è una property declaration perché vedete che per ogni metodo per ogni argomento vedete argomento A proprietà A di tipo string get set vedete property declaration property declaration public public get set gli accessori get set quindi ho fatto esattamente questo ho fatto questo per la request ho fatto questo per la response e poi a questo punto vado a definire la classe service simple service in questo caso dell'esempio public partial public partial add member method declaration vedete che allora vedete cosa fa method che si chiama esattamente come il metodo della classe do something quindi per esempio il metodo quindi method dec punto identifier restituisce task generico di http response data qui ho fatto la porcata permettetemela qualche volta è possibile per non perdere tempo ho preso questo invece che dichiararlo come codice ho fatto fare il parse direttamente per restituirmi lo stesso dom a questo punto attribute list perché vado a metterci l'attributo function vedete function con il nome e poi cosa vado a fare add state a body statement anche qui ho fatto per velocità vedete che ho fatto il parse della request response e request per andare a dedicarmi solamente alla local statement declaration che è questa ok vedete che ho fatto local declaration statement perché dichiaro value quindi syntax factory value we initializer perché c'è un uguale e qui cosa c'è equal value clause che è questa per cosa? per un invocation expression perché adesso abbiamo un'invocazione perché vedete che sto invocando do something dell'oggetto service all'interno di this vedete che c'è member access di expression syntax identifier e gli passo esattamente tutto il codice per ottenere che cosa? per ottenere poi vedete che poi passo i parametri metto dec parameter list con una link per fare sostanzialmente per passare sostanzialmente gli accessi a request punto ogni singola proprietà mappandola sui singoli argomenti ok a questo punto il risultato se tutto funzionasse sempre di volta in volta in maniera corretta ecco che si è sbalinato di nuovo vado a riaprirlo vado a riaprirlo vado a riaprirlo di nuovo nella speranza che adesso lo abbia di nuovo generato analyzer function vedete che c'è e vedete che questo è effettivamente il codice che lui ha generato vedete che dice anche this file is auto generated by generator and cannot be edited quindi il discorso che finisce qua dentro e voi non l'ha trovato il discorso è che vedete che quello che voi avete scritto quello che voi avete scritto per esempio è legato al fatto che qui dentro c'è la classe base ok questo è il servizio che viene iniettato questa è la classe base ma del service simple viene completato come partial da questi partial classes che vengono generate quindi voi non le toccate assolutamente e questa è una cosa assolutamente interessante perché a questo punto voi avete generato la classe a partire dall'interfaccia perché perché voi avete implementate questa invocazione del service a partire da una richiesta HTTP sempre nella stessa maniera e quindi questa è una cosa quindi capite che questo lavoro tedioso di dover generare la classe le classi di richiesta e risposta a questa cosa qua la fate generare le scrivete una volta il generatore di codice e non ci pensate e non ci pensate assolutamente più poi ci si pensa assolutamente vi faccio vedere vi faccio vedere delle cose beh allora una cosa importante una cosa importante allora supponete per esempio se supponete che io faccia skip attribute ok vado a definire uno skip attribute skip generation attribute e lo aggiungiamo ai method ok per quale motivo perché se io faccio skip generation attribute io potrei dire skip generation ok dico pubblica tutta l'interfaccia però questo se c'è l'attributo saltalo perché direte direte perché così tutto quello che è standard lo potete generare automaticamente se c'è qualche metodo se c'è qualche metodo che dovete gestire in qualche maniera perché c'è una specializzazione voi bloccate la generazione del codice e a quel punto potete fare l'implementazione voi dell'interfaccia e quindi andare a aggiungere aggiungere voi la classe a manina e aggiungere quello che serve perché questo è importante perché succede sempre che il generatore di codice vi gestisce il 90% numero arbitrario però un numero elevato di casi ma qualcuno non riesce a gestirlo e quindi è inutile modificare il generatore di codice a quel punto vale la pena fermare il generatore ed andare ad aggiungere a mano poi è chiaro che a quel mente andrete ad aggiungere poi a revisionare il generatore di codice per andare a dire c'è qualcosa che è possibile fare in maniera diversa o andiamo a gestire questo caso ma almeno non vi bloccate a cercare di trovare qualche assurdità per poter generare questa cosa qua andare a cancellare al volo il file saltare le porcherie di qualsiasi genere bene andiamo a vedere il risultato con la speranza che non si pianti vedete che le funzioni vedete che quindi non sono imprendate però lui le ha trovate e quindi sono assolutamente funzionanti andiamo a vedere code andiamo a vedere thunder new client andiamo a fare post ci prendiamo il metodo opla post body andiamo a prendere questo andiamo a mettere a ciao ciao è un metodo che non fa delle robe a caso ma tanto per far vedere che funziona generata al volo faccio send ha restituito vabbè ha fatto con c'è il generatore di codice ho scritto una cosa brutalmente a caso però vedete che la funzione ha funzionato e quindi sono in questo progetto e quindi il generatore di codice ha fatto il suo fermo restando che appunto formalmente voi non avete scritto il codice ma l'ha scritto il generatore e questa è assolutamente una cosa positiva bene per chiudere la sessione pensate esattamente a questo stesso principio stesse regole o regole equivalenti però perché vi gira e invece di pubblicare la cosa come una function la pubblicate come per esempio adesso che va molto che adesso fa figo una minimal API una minimal API che vi permette sostanzialmente che cosa di utilizzare i mapper mappost mappget e quindi in una class in un unico file program voi avete tutta la vostra web API tutta la vostra web API magari addirittura con l'endpoint con l'endpoint di swagger ho scritto ho scritto un generator anche qui di minimal API è sostanzialmente è sostanzialmente identico stessa cosa solamente che genera genera sostanzialmente del codice del codice diverso sostanzialmente dove ce l'ho qua ecco qua che non l'ha fatto vedere come sempre però sostanzialmente ho fatto una funzione correttamente giusta giusta per essere invocata sostanzialmente dalla minimal API vedete che si aspetta una action quindi un text e response vi faccio vedere però questa cosa qua allora se io faccio allora mettiamo allora sembra che non stia funzionando invece vi faccio vedere che in realtà lui sta lavorando set startup quindi adesso lui partirà da questo però io cosa faccio io faccio minimal API generator ok e io faccio questo ci faccio un debugger punto launch ok benissimo allora per scatenare scateniamo una una rebuild vedete che quindi mentre sta ricompilando vi lancia il debugger diciamo una nuova instance di visual studio e vedete che vi trovate dentro il codice a questo punto andiamo dentro metto declaration service generate module source tac eccola qua vedete che il codice lui l'ha generato vedete che ho fatto questa minimal API core vedete che ha fatto questo handle con request response semplicemente l'ho fatto così per praticità della minimal API vedete che potete debuggare effettivamente il codice faccio add source faccio add source e direte cacchio che figo allora il codice l'hai generato sì il codice forse l'ho generato vado dentro API core e vedo che sembra che non funziona e non capisco perché però se io ho rigenerato vedete che succeeded vedete che lui comunque ha compilato direte tanto non ha generato un cavolo non vedi niente va bene proviamo ad eseguirlo proviamo ad eseguirlo incrocio le dita parte questo scusate che mi è finito sull'altro schermo close eccolo qua e vedete che la posta ha funzionato quindi try A di tipo la bla 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 B di tipo qua così execute e vedete che ha eseguito la chiamata ok quindi effettivamente purtroppo il syntax analyzer non viene notificato del file cambiato però effettivamente il codice lo ha generato per debaggarlo bisogna entrare dentro per cui per cui tocca fare qualche salto mortale da questo punto di vista il consiglio che posso dare è che come capite tutto questo generate model in realtà funziona come vi mostravo prima funziona con i programmi esterni per cui il consiglio che vi do è sostanzialmente intanto di non demordere del fatto che questa cosa si pianta e amen il discorso è che tutto quel codice vedete che io l'ho sviluppato prima di tutto in una console application di sponda me lo sono fatto così vedete che io mi sono generato mi sono generato sostanzialmente vedete che ho fatto il codice qua e quindi tasto destro qua set start up quindi ho usato un programma esterno per generare per generare la classe ho fatto tutto debaggato tutto ho fatto la A a quel punto ho puntato il codice sorgente per fare la stessa cosa per poi dire questo metodo l'ho preso e l'ho copiato dentro il function generator è esattamente lo stesso codice però a quel punto a quel punto sono sicuro che a meno di intercettare esattamente il punto esatto il codice più o meno funziona brutto sì assolutamente lo so spero di riuscire a dedicare del tempo soprattutto a pingare il team e capire per quale stracavolo di motivo questa cosa salta in continuazione però questo per dire che in realtà il meccanismo funziona ed è particolarmente potente vi faccio vedere ancora una cosa che è importante perché direte perché c'era un punto che volevo farvi vedere che cavolo ma che codice verboso il codice verboso sì sì ok chiedo scusa questo ricordatevi che poi lasciate il 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 function generator no andiamo a beccarcelo qui minimal ap generator perché ho lasciato il debugger punto launch e quindi andiamo a toglierlo tac ok altrimenti vi continua a generare questa cosa qua allora un'informazione importante un'informazione importante dal c sharp 6.0 quindi dalla riscrittura in rosly in dotnet si è introdotto vabbè adesso mi salta continuamente è introdotto un concetto molto importante il fatto dell'immutability o fa il fatto che i valori che vengono scritti sono immutable tutti questi sono valori immutabili questo cosa significa che create una volta sono immutabili e valgono per sempre quindi qual è il significato di tutto questo che per esempio questo syntax using directory cacchio ma quanto devo scrivere allora possiamo nulla mi impedisce per esempio di poter fare una cosa di poter scrivere una cosa di questo genere using directive syntax using string name e faccio così ok? e capite che quindi questo using anzi facciamolo my using perché non si sovrapponga a questo punto capite che io posso fare questo capite? piuttosto che parameter list per esempio supponiamo di prendere questa classe e vogliamo parametrizzarla ok? class declaration cosa succede se io faccio quick refactor così? tasto destro ci pensa un attimino dategli tempo perché effettivamente il codice diventa impegnativo nonostante questo adesso finalmente è una macchina carrozzata ok? vediamo che faccio extract method add request class tac ok? vedete che gli passa method decl perché le richieste le fate sempre così passo il metodo e lui mi crea la method class stessa cosa perché magari voglio fare la stessa cosa voglio fare la stessa cosa se parte sì sì dove extract method extract add response class capite dove voglio parare nel momento in cui allora all'inizio è verboso però a un certo punto voi potete andare a crearvi delle funzioni accessorie che effettivamente vi implementano le cose come vi servono questa cosa qua quindi l'è incapsulata all'interno e l'unica cosa che dovete fare è andare a parametrare rispetto a quello che vi serve quindi che ne so vediamo string return variable name uguale a value ok e quindi avete tac e così avete parametrizzato avete parametrizzato il metodo e quindi l'avete anche generalizzato quindi capite che questo sarà anche verboso però a questo punto potete fare questi giochetti che rimangono tutti assolutamente sinteticamente validi poi vabbè qualcosa cannato ma i sintexiosi in cui ho dimenticato una parentesi ok quindi capite che questo è assolutamente verboso ma poi quando prendete pratica potete ottimizzare il codice e scrivere quello scrivere quello che volete bene di nuovo scusate per il fatto che il generatore impazzisce ma adesso se sapete cosa fare sapete quali sono tutto il resto funziona funziona assolutamente da dio bene traiamo quindi le nostre conclusioni questa volutamente l'ho fatta così se il vostro focus come è il mio maintenance first la code generation diventa un tema assolutamente importante in azienda il costo di manutenzione è la cosa più importante costo di manutenzione che si riflette comunque sul costo di scrittura del codice perché se il codice è logico è fatto bene è pulito fatto bene cose di questo genere perché magari non ve l'ho fatto vedere chiedo scusa ok chiedo scusa lo riapro un attimo riapro un attimo il code generator lo riapro un attimo quello che è importante è vedete che la function la trovate scritta sempre in un unico file class il fatto di vedete cosa ho fatto io adesso vado nel codice di base andiamo qua del generator vedete che io ho fatto allora andiamo di qua questo del generator l'ho fatto più semplice ma pensiamo affinché allora ho ristrutturato la classe come con service perché la mia classe service con il parametro base e questo chiedo scusa non è necessario perché perché derivo da service base che implementa l'injection del e-service magari e magari dovrei usare nella generico t-bay il t no perché magari dovrei anche mettere t-service no che magari è anche che magari è anche meglio no che diventa così ok che magari è più corretto però per esempio per semplificare l'invocazione l'invocazione quindi minimizzare il codice da invocare ho creato questo nel codice c'è il codice massimo necessario perché poi per esempio è chiaro che qua ce n'è poco però per esempio ho incapsulato all'interno di un espos queste due tre righe e lo fate diventare una riga sola quindi in qualche modo questo quindi in qualche modo voi andate a generalizzare voi andate a generalizzare sostanzialmente a mettere dei metodi accessori che sono funzionali a quello che effettivamente vi serve ah ecco perché avevo messo questo il protected chiedo scusa e così diventa accessibile ok e quindi diventa il codice minimo che dovete generare andando a fare delle funzioni che diventa è doveroso perché se avete n metodi indipendente dal code generation e tutte fanno request e response se realizzarle in JSON magari queste righe che rispondono sempre alla stessa maniera volete incapsulare in una funzione per cui la code generation è un altro modo che vi invita a scrivere del codice migliore a fare delle best practice da questo punto di vista e quindi avere una funzione che vrappa il vostro metodo di business il più piccolo minimale possibile bene torniamo alle slide quindi maintenance first quindi creare il code generator non è una pratica comune noi siamo molto più utilizzatori di code generator razor è il code generator che sicuramente usiamo più di tutti da questo punto di vista l'importante allora la cosa la cosa che è importante è non è non è mainstream però vale la pena vale la pena lavorare vale la pena lavorarci fate attenzione assolutamente a non incasinarvi la vita incrementando la complessità magari cercando di gestire 50.000 feature non implementate le situazioni non frequenti ma gestite datevi un buon bilanciamento tra quello che è generabile automaticamente e quello che deve rimanere come una porta aperta scritta a mano un buon 80-20 è sempre una buona proporzione Rosling Rosling è maturo perché da C Sharp 6.0 quindi ce l'abbiamo da 13 anni quindi Rosling funziona bene è Visual Studio che è un pochettino scricchioloso da questo punto di vista secondo me tutta la cosa legata a Visual Studio 4.8 e cose del genere secondo me è lì che c'è qualcosa poi Visual Studio è enorme ovviamente quindi secondo me si inclicca qualcosa però capite che le cose che si possono ottenere sono assolutamente una figata clamorosa per cui vi invito onestamente a provare